Su GIMP, come altri programmi di fotoritocco, l'elaborazione avviene principalmente su immagini di tipo raster, definite anche bitmap. Queste immagini possono essere considerate come un mosaico, composto da tanti piccoli tasselli, definiti pixel, forma abbreviata per Picture Element, elemento di immagine. Ognuno di questi pixel rappresenta un'informazione, in particolare un'informazione cromatica. Disposti su un reticolo ordinato, i pixel rappresentano la sostanza dell'immagine, ed è con questi che dovremmo lavorare per effettuare le modifiche desiderate. Il numero di pixel, ad esempio, ovvero quanti pixel abbiamo in orizzontale, quanti in verticale, quanti compongono l'immagine, rappresentano la dimensione dell'immagine. Su GIMP è possibile leggere questa informazione fondamentale nella barra del titolo, nella parte superiore dell'interfaccia. In questo caso, leggiamo 4214x2809. Questa informazione è possibile ritrovarla anche sotto il menu Image, nella finestra di dialogo Image Properties. Come vediamo, la prima voce è proprio quella che definisce la dimensione dell'immagine, 4214x2809 pixel. Come si può vedere, anche la seconda linea definisce una dimensione, in questo caso una dimensione di stampa, che è definita in un'unità di misura, in questo caso millimetri. Va tuttavia ricordato che l'effettiva misura di un'immagine va sempre espressa in pixel. Per stabilire la corrispondenza tra l'unità di misura e i pixel, dovremo passare dalla definizione di risoluzione, che, come vediamo in questa finestra, in questo caso è di 300 ppi, o pixel per pollice. Proviamo a capire meglio di cosa si tratta. La risoluzione, altro non è che il rapporto tra il numero di pixel e l'unità di misura, ovvero quanti pixel vogliamo far stare all'interno di un'unità definita, che, generalmente, viene espressa in pollici. Per capire meglio il concetto, apriamo un'altra finestra. Dal menu Image, apriamo Print Sites. Da questa finestra abbiamo la possibilità di definire le dimensioni dell'immagine, secondo un'unità di misura da scegliere. Nella stessa finestra abbiamo anche la possibilità di definire una risoluzione. In questo caso, partiamo quindi da un'immagine a 300 dpi, larga 35 cm e rotti. Proviamo, allora, ad aumentare una delle dimensioni. Proviamo, ad esempio, ad aumentare la larghezza, a 50 cm. Come vediamo, anche il campo dell'altezza ha subito una variazione. Questo per mantenere proporzionale la dimensione dell'immagine. Nel frattempo, però, il valore della risoluzione è diminuito da 300 a 214. Infatti, per far stare lo stesso numero di pixel, 4214, in una dimensione maggiore, e quindi distribuire questi pixel su uno spazio maggiore, sarà necessario inserirne di meno all'interno dell'unità. Diversamente, potremmo anche imporre una risoluzione, e vedere quindi a quale dimensione di stampa questa corrisponde. Cliccando sul tasto OK, il programma ridefinirà in maniera istantanea la dimensione dell'immagine. È un'operazione immediata, perché di fatto non comporta alcun ricampionamento dell'immagine, ovvero tutti i pixel originali sono rimasti intatti. Se tuttavia volessimo imporre una dimensione di output e, nel contempo, definire una risoluzione, dovremmo aprire una nuova finestra di dialogo, la finestra Scale Image, dal menu Image. In questo caso, la coppia di valori relativi alla dimensione dell'immagine e alla risoluzione, non saranno più collegati, e potremo imporre una risoluzione e una dimensione. In questo modo, il programma dovrà ricalcolare il numero di pixel presenti nell'immagine. Questo ricalcolo avverrà attraverso l'uso di alcuni algoritmi, che cercheranno di mantenere fedeltà tra l'immagine originale e l'immagine così modificata. Cliccando sul tasto Scale, vedremo che il programma ci metterà qualche istante per ridefinire l'immagine, che adesso avrà quindi una dimensione differente.